È un inno alla pace, è un lavoro che è partito già da due anni e si vuole lanciare un messaggio forte, positivo, di civile convivenza, di integrazione e di pace. Assistiamo a troppi fenomeni internazionali di violenza, di guerra e quindi c'è bisogno di un'iniezione anche così di positività. Una bella canzone, ma la cosa vera che la rende originale e unica è che i testi sono dei bambini, non c'è una parola aggiunta da un adulto. Quindi tutte le parole e le frasi della canzone sono il risultato di un lavoro che hanno fatto i bambini attraverso il consiglio dei bambini e attraverso anche un lavoro nelle classi. Poi questi testi sono stati musicati dal maestro Giorgio Caselli ed è stata cantata dai bambini delle nostre scuole elementari e da alcuni artisti fanesi che ringrazio che hanno accolto a braccia aperte questo bel progetto ma soprattutto l'hanno accolto con lo spirito giusto. È stata già anche registrata dal studio Francesco De Benedictis che è un'istituzione in questo campo e con un video del regista Henry Sacchiaroli. Quindi è un bel progetto, è una bella canzone ma soprattutto è un percorso che vogliamo fare come città della pace, come anche consiglio dei bambini che guarda anche queste tematiche e vuole parlare a tutte le persone che hanno questa sensibilità.